Eccoci dunque in Germania, più precisamente in Baviera Meridionale, dove siamo per provare la nuova Skoda Super Wagon 2016. Quali sono le sue caratteristiche? Sicuramente un design moderno, elegante, ma anche delle dotazioni tecnologiche di sicurezza di primo livello, oltre a comfort e spazio a bordo elevato e, per finire, un ottimo rapporto qualità-prezzo. Siamo dunque a bordo e vediamo quali sono le sue caratteristiche. Chi l'ha detto che per guidare una vettura pratica, confortevole, dalla linea dinamica ed estremamente tecnologica sia necessario spendere una fortuna? Tutte queste caratteristiche le possiamo infatti trovare nella nuova Skoda Super Wagon, rinnovata versione della vettura del brand CECO e uno dei modelli con il miglior rapporto qualità-prezzo prossimamente sul mercato. I prezzi della berlina abbiamo già comunicati, a partire da 25.900 euro fino ai 43.400 la versione benzina da 280 cavalli. La versione Station Wagon costerà 1.100 euro in più rispetto alla versione berlina, quindi anche dal punto di vista del prezzo abbiamo deciso di aggredire questo mercato perché per noi rappresenta una grandissima opportunità. Lunga 4,86 m e larga 1,86 m, la nuova Super Wagon è un'ammiraglia spaziosa e versatile, progettata sulla base della piattaforma modulare NQB del gruppo Volkswagen e in grado di garantire un'abitabilità da record. C'è infatti grande spazio sia per gli occupanti che per i bagagli, con un baule posteriore che dichiara una capienza fino a quasi 2000 litri. Altre soluzioni semplicemente intelligenti, o simplici clever come amano definirle i Skoda, le troviamo in tutta la vettura, come i due ombrelli alloggiati negli appositi vani delle portiere anteriori o il pedale virtuale che permette di aprire il portellone posteriore senza usare le mani. Sotto il cofano troviamo quattro diversi motori, con potenze da 120 a 280 CV omologati a Euro 6 ed equipaggiati con i sistemi start-stop e recupero dell'energia in frenata. La Skoda Superb Vagon si fa apprezzare anche dal punto di vista tecnologico e multimediale, vista la presenza di diversi sistemi di ausilio alla guida e di un infotainment all'avanguardia, che permette, grazie alla tecnologia MirrorLink, di sincronizzare il proprio smartphone con la vettura e utilizzarne alcune applicazioni in tutta sicurezza. Una vettura confortevole, lussuosa e che riesce ad abbinare una tecnologia all'avanguardia con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Insomma la nuova Superb Vagon non ha niente da invidiare a colleghe ben più nobili e costose.